Musica Benvenuti a tutti a Fai la tua scelta. Questo è un approfondimento televisivo in cui le scuole secondarie di secondo grado di Pesaro, che sono sette, capitanate dai loro dirigenti scolastici, hanno proprio la possibilità di presentarsi. La Regione Marche infatti ha avviato un progetto territoriale dedicato all'orientamento, un progetto molto ampio che ha toccato sia gli istituti secondari di primo grado sia quelli di secondo grado. Tante le iniziative già fatte ma per completare questa attività e visto il periodo di restrizioni dovute al coronavirus si è pensato a questo spazio televisivo in cui appunto voi genitori e voi ragazzi potrete conoscere da vicino le scuole e quindi effettuare la vostra scelta. La scelta della scuola secondaria di secondo grado infatti è una tappa fondamentale nel processo di crescita di ciascun studente perché è la prima importante scelta che i ragazzi fanno per la loro vita. E allora partiamo dalla scuola capofila di questo progetto, vi presentiamo infatti l'Istituto Tecnico Economico Tecnologico Bramante Genga di Pesaro nelle vesti della dirigente scolastica Anna Gennari, benvenuta. Grazie, buonasera. Allora raccontiamo questo istituto molto articolato. Sì, dunque è un'offerta formativa in effetti abbastanza varia di un istituto che tra l'altro è piuttosto antico perché ha 160 anni ma è un istituto completamente rinnovato e tra l'altro in continua diciamo innovazione. È una scuola che è aperta alla sperimentazione e anche diciamo in questo momento di emergenza sanitaria comunque non rinuncia a fare proposte didattiche che abbiano come scelta diciamo importante quella di essere una scelta educativa significativa per il nostro istituto come ad esempio il progetto OP di cui poi magari un attimo parlerò dopo. Sì. Ecco, allora il nostro istituto è formato da due istituti tecnici, uno del settore economico il Bramante, uno del settore tecnologico il Genga e da un istituto professionale che rientra nel settore dell'industria artigianato per il made in Italy, settore legno arredo. Partiamo dal Bramante, dal ex ragionerico diciamo così, completamente rinnovata naturalmente, profondamente rinnovata. Allora qui abbiamo un percorso, un biegno che è unico e che poi al termine di questo biegno permette di una scelta tra tre indirizzi, l'amministrazione finanza e marketing, sistemi informativi aziendali e relazioni internazionali per il marketing. È vero però che nel biegno già dal primo anno, poiché appunto la scelta didattica è stata quella di utilizzare dei moduli da 55 minuti, ecco è possibile dare in termini di ampliamento dell'offerta o di potenziamento dell'offerta formativa due moduli che caratterizzano i tre percorsi. Quindi già dal primo anno, nelle FM abbiamo due moduli in più di economia aziendale, due moduli in più di informatica nel sistema informativi aziendali e invece l'introduzione addirittura di una terza lingua straniera nel RIM. Ecco e questa terza lingua straniera la si può scegliere tra l'inglese, il francese e il tedesco. E quindi questo permette poi ai ragazzi tutto sommato di avere anche una maggior consapevolezza nel momento in cui dovranno fare la scelta al termine del biennio, quindi anche una funzione orientativa. Ecco, praticamente ecco come si differenziano questi tre percorsi? Ecco qualcosa ho già detto ma diciamo anche un po' meglio, ecco l'amministrazione finanza e marketing ad esempio offre sicuramente una cultura generale solida, ecco ma approfondisce le conoscenze in campo contabile con una base diciamo anche linguistica importante e anche delle competenze informatiche di base. Quindi questo percorso è adatto a chi desidera proprio approfondire gli studi in ambito giuridico economico. Ecco abbiamo poi il SIA, il sistema informativo aziendali. Ecco qui invece noi entriamo proprio nel sistema della informatica gestionale. Quindi il ragazzo che intraprende questo percorso può arrivare a progettare dei siti web oppure diciamo la gestione dei database dell'azienda o ancora proprio entra nello specifico della programmazione dei software. Per quanto riguarda invece il RIM, come abbiamo detto, quello che riguarda appunto che prevede nel suo percorso tre lingue straniere. Ecco naturalmente avendo una conoscenza di tre lingue straniere è chiaro che anche dal punto di vista del linguaggio economico c'è un miglioramento e inoltre tutta la parte del diritto internazionale permette anche di approfondire quelle che sono le tematiche economiche a livello appunto internazionale, quindi al di là dei confini diciamo italiani. Quindi è un istituto che sicuramente è aperto potremmo dire al mondo, all'economia, all'informatica e dà delle solide competenze che possono essere immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, certamente, ma anche solide competenze di base per poter affrontare poi gli studi universitari. Passiamo adesso all'istituto tecnologico, al GENGA. Ecco, allora il GENGA, anche qui abbiamo un bienio comune nelle costruzioni ambiente territorio al termine del quale si può optare una scelta appunto o per il CAT appunto sempre costruzione ambiente territorio che è un po' l'ossatura di questo indirizzo, oppure per la tecnologia del legno nelle informazioni, nelle costruzioni, che appunto è un approfondimento di questo materiale, oppure un altro indirizzo che può essere appunto il geotecnico. Allora, anche qui nel bienio abbiamo la possibilità di un ampliamento dell'offerta, proprio perché anche qui i moduli da 55 minuti consentono di ridare due moduli appunto di, diciamo, di ulteriori discipline. E allora ecco che nel primo anno di questo bienio si approfondiscono delle laboratori tecnico-artistici, diciamo, mentre nel secondo anno viene restituto, viene data un'ora in più di inglese e quindi fanno quattro ore di inglese, un inglese tecnico e poi anche un modulo di GIS, che è un sistema molto, cioè un, sì, che conferisce a questi ragazzi delle competenze molto importanti poi per affrontare le discipline tecniche del triennio. Ecco, per quanto riguarda poi il triennio invece, il potenziamento nel triennio è caratterizzato da una scelta che i ragazzi possono effettuare tra diverse proposte che appunto l'istituto pone ai ragazzi. Possono scegliere i ragazzi tra la progettazione del verde oppure, diciamo, ha a che fare con l'illuminotecnica, con l'efficientamento energetico, con pratiche catastali o anche con tutti i corsi, diciamo, sulla sicurezza e sull'antincendio. Oppure, e questi sono tutti i percorsi quadrimestrali, quindi i ragazzi, diciamo, possono per un quadrimestre scegliere una tematica e poi modificare la loro scelta nel secondo quadrimestre. Mentre appunto ci sono dei moduli annuali che riguardano il BIM. Il BIM è questa Building Information Modeling che appunto è una progettazione integrata che è ormai dal 2021 poi diventata obbligatoria non solo in Europa ma anche in Italia e che è un primo esempio appunto di progettazione comune, quindi di vedere proprio come già si comincia a lavorare in team, quindi insieme l'edificio costruito nella sua interezza e quindi questa progettazione che viene effettuata nella sua interezza. Al termine del bienio appunto quindi abbiamo questa scelta, poi in CAT, in tecnologia del legno oppure in geotecnico. Ecco, per quanto riguarda il CAT possiamo dire che il termine stesso, costruzioni, ambiente e territorio ci fa capire di che cosa stiamo parlando. Quindi non solo delle costruzioni naturalmente, gli edifici, case eccetera, ma ospedali, scuole, centri commerciali eccetera. Poi c'è il termine ambiente e territorio che ci fa capire che appunto è un percorso che si occupa sempre del discorso dell'ambiente anche visto dalla sostenibilità ambientale e di quello che è la tutela del territorio. Per quanto riguarda invece la tecnologia del legno nelle costruzioni, qui approfondiamo proprio questa, si introduce una materia nuova che appunto è la tecnologia del legno perché appunto qui si approfondisce lo studio di questo materiale che naturalmente viene ad essere un materiale che oggi tutti conosciamo particolarmente adatto nella bioedilizia ed è un materiale che tra l'altro ha anche tante caratteristiche positive per quel che riguarda anche ad esempio la sismicità. Noi siamo in una zona sismica e quindi è chiaro che è un materiale importante. Ma la differenza tra i due percorsi è data solo da questa introduzione di questa disciplina ma ciò non vuol dire che non si parla del legno anche naturalmente nel CAT. Il geotecnico invece, ecco qui basta guardare le immagini che abbiamo visto anche in questi giorni del nostro dissesto idrogeologico che abbiamo nella nostra Italia e quindi capiamo il geotecnico e l'importanza che può avere questo percorso per uno studio più attento proprio sulla tutela dell'ambiente. L'istituto tecnologico offre una preparazione tecnico-professionale molto importante che appunto è molto solida anche qui che permette sempre l'introduzione nel mondo del lavoro direttamente oppure anche appunto la possibilità di proseguire gli studi. Solo una parola voglio dire sul discorso del geometra laureato perché noi stiamo collaborando con l'Università Politecnica delle Marche proprio per far sì che alcuni laboratori che appunto sono diciamo caratteristici poi di questo percorso universitario possano essere svolgiti addirittura all'interno del nostro istituto che diciamo è piuttosto dotato insomma di laboratori all'avanguardia. E passiamo infine all'istituto professionale. L'istituto professionale è quello che è meno noto perché naturalmente è nato da poco. È un istituto professionale appunto del Made in Italy che ha un percorso quinquennale quindi al termine di questo quinquennio il ragazzo può scegliere anche di andare all'università se non vuole appunto mettersi direttamente nel mondo del lavoro con la differenza che essendo un istituto professionale al terzo anno è possibile avere anche una qualifica regionale triennale. Ecco questo istituto è stato voluto fortissimamente dalle aziende diciamo del settore arredo del territorio perché non esisteva nella nostra zona un istituto simile ed è nata una bella diciamo così collaborazione. Allora innanzitutto è stato sostenuto fin dall'inizio dalla Scavolini ma adesso abbiamo una collaborazione fortissima con la Confartigianato che ci ha permesso appunto di collegarci a tante aziende del territorio e proprio questa mattina ad esempio abbiamo avuto la prima lezione in aula del gruppo BS e con BS appunto stiamo lavorando, abbiamo iniziato questo percorso molto importante perché naturalmente ecco su tutto il discorso delle tecnologie del legno, delle macchine del legno, dei software diciamo per il controllo delle macchine a controllo numerico naturalmente è molto importante. Che cosa anche dire? Ecco questo percorso professionale è un percorso che permette ai ragazzi diciamo di avere tante ore di laboratorio, 14 ore nel biegno e 18 nel triennio con anche la presenza di tante ore di un secondo insegnante, dell'insegnante tecnico pratico che quindi può seguire più da vicino noi ragazzi anche con la possibilità appunto di fare dei percorsi proprio personalizzati. Ecco e tra l'altro ecco proprio qualche giorno fa abbiamo anche un'altra collaborazione con la CMT Orange Tool che ci ha consegnato proprio delle macchine, anche qui abbiamo stretto una convenzione grazie appunto a Confartigianato quindi anche questo è molto importante. Benissimo, ok. Ecco e... Ultime battute? Sì ultime battute, ecco posso dire alcune caratteristiche che sono comuni Certo. Diciamo i percorsi, innanzitutto questa forte alleanza col territorio non soltanto appunto con quello che ho ricordato poco fa ma anche con Confindustria ad esempio che offre tantissimi percorsi importanti per il settore economico e poi appunto la Camera di Commercio, poi con i comuni, con il comune di Pesaro, con il comune di Gabice per in Mississippi con il comune di Pesaro adesso per questo progetto OPE di cui appunto si è parlato in questi giorni abbiamo avuto ieri questa visita appunto del dottor Bertolaso e dell'ingegner Manenti per questo studio di fattibilità di una situazione, di un presidio emergenziale nella zona di Ex Campanara e poi appunto è una scuola che è molto attenta alle problematiche dei ragazzi io potrei dire che insomma ecco si cerca di comprendere davvero quello che è il periodo che loro stanno attraversando questi ragazzini entrano nella nostra scuola a 14 anni e ne escono che sono già maggiorenni quindi noi abbiamo ecco anche tante attività che possono così andare incontro allora il progetto SOS studenti, il progetto diciamo lo sportello didattico come pure i corsi tradizionali naturalmente di recupero abbiamo anche, abbiamo avuto nel biegno 2020-2021 abbiamo anche, abbiamo stati riconosciuti come scuole twinning perché ecco oltre al gemellaggi che speriamo presto di poter riprendere a fare in loco abbiamo, portiamo avanti anche il gemellaggio elettronico quindi questi twinning per cui appunto ecco siamo stati riconosciuti come scuole twinning soggiorni linguistici, esperienze all'estero anche di alternanza scuola-lavoro progetti Erasmus eccetera Benissimo, allora ringraziamo la dirigente scolastica Anna Gennari, grazie Grazie a voi E adesso è arrivato il momento di conoscere l'Istituto Agrario Cecchi e lo facciamo con la sua dirigente scolastica Donatella Giuliani, benvenuta Grazie, buonasera a tutti i telespettatori E allora conosciamo questo istituto Sono la preside dell'Istituto Agrario Cecchi L'Istituto Agrario Cecchi è ospitato presso la famosa Villa Caprile di Pesaro una villa seicentesca con tanta storia, con tanta architettura con un bellissimo, una bellissima cornice paesaggistica Villa Caprile con i suoi scherzi e i giochi di acqua Conosciuti su tutto il territorio provinciale e oltre L'Istituto Agrario Cecchi ha un'offerta formativa relativa al settore agrario al settore agronomico e all'agroindustria Abbiamo un indirizzo tecnico-tecnologico l'agraria, l'agronomia e l'agroindustria e abbiamo un indirizzo professionale per i servizi all'agricoltura lo sviluppo rurale la valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio e ovviamente le risorse e la gestione delle foreste e la silvicoltura Quindi sono solo due indirizze legate al settore rurale o agrario L'Istituto Tecnico ovviamente ha un biennio comune di discipline e queste discipline sono di aspetto culturale generale Poi abbiamo al triennio le discipline dell'area di indirizzo che sono discipline culturali e professionalizzante Ovviamente l'Istituto Tecnico Agrario è suddiviso in tre articolazioni e si interessano, entrambe le articolazioni, si interessano di quelli che sono gli aspetti logistici legati alla ruralità legati alla cultura dell'ambiente, alla salvaguardia dei territori ma legati anche all'agraria, all'agrindustria e ovviamente alle tecnologie relative a questi settori È un settore, possiamo dire, multifunzionale e le tre articolazioni ovviamente sono legate da discipline comuni che danno un collante generale per far sì che queste discipline possano all'interno delle varie articolazioni rendere specificità di settore e dare competenze tecniche, tecnologiche e pratiche legate alla viticoltura e neologia alla produzione e alla trasformazione e all'indirizzo gestione dell'ambiente del territorio Le competenze che si acquisiscono in questo settore sono competenze estremamente tecniche oggi si parla di agricoltura multifunzionale si parla di industria agroalimentare si parla di prodotti di filiera quindi c'è molta attenzione al settore agricolo al settore agronomico e al settore agroindustriale un diplomato in agraria ha delle ottime opportunità queste sono opportunità lavorative immediatamente dopo il diploma i nostri periti agrari oltre a intraprendere possiamo dire l'esercizio e la libera professione dopo un tirocinio di 18 mesi danno l'esame di Stato si iscrivono all'albo dei collegi periti agrari e agronomi quindi o possono essere inseriti nel mondo lavorativo legate all'industria dell'agroalimentare pensiamo ai prodotti di filiera pensiamo alla lavorazione la produzione la trasformazione di tutti i prodotti agricoli e agroalimentari pensiamo alla tutela dei marchi pensiamo ai consorzi agrari quindi un ampio settore operativo tecnico tecnologico che da una parte sviluppa competenze sempre più imprenditoriali dall'altra offre una diciamo una vasta gamma ma di competenze per proseguire gli studi a livello universitario ovviamente frequentando l'istituto tecnico agrario si hanno competenze a livello scientifico e quindi tutto il settore delle discipline scientifiche dalla veterinaria all'agraria alle risorse forestali o alla chimica o alla biologia sono facilmente diciamo sono facilmente praticabili e i nostri studenti possono proseguire con molta tranquillità un percorso di studio universitario oltre a questo se pensiamo al settore vitivinicolo i nostri studenti possono frequentare un sesto anno e avere un diploma specialistico da eunotecnico essere immediatamente impiegate nel settore della viticultura quindi lo studio delle biotecnologie vitivinicole o essere inserite nelle cantine e quindi per la produzione la vendita il marketing i nostri vini sono i vini italiani sono riconosciuti in tutto il mondo e questo è molto apprezzabile allora preside raccontiamo appunto l'altro settore il settore professionale dei servizi segue lo sviluppo dell'agricoltura lo sviluppo rurale la valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio e le risorse boschive forestali ovviamente questo indirizzo è rivolto a una cultura di una nuova ruralità oggi si parla in una maniera sempre più scientifica di un'agricoltura multifunzionale un imprenditore agricolo ha delle competenze di settore che riguardano l'agricoltura ecosostenibile una tipologia di agricoltura basata sul rispetto la salvaguardia dei territori rurali il recupero delle zone montane boschive e quindi la cura e la gestione degli ambienti pensiamo agli alvei fluviali pensiamo alle risorse boschive e forestali pensiamo alla tutela dei parchi pensiamo al verde quindi c'è tutto un settore di agricoltura multifunzionale che risponde a esigenze di tipo ecologico ma non solo di tipo ecologico a esigenze del riconoscimento dell'agroalimentare di filiera il nostro istituto con i propri laboratori questi laboratori ovviamente possono completare le filiere dell'agroalimentare rivolto all'attario caseario rivolto alla viticultura e all'enologia rivolto a quello che è l'olivocultura e quindi tutta la la lavorazione delle materie prime la trasformazione la produzione e la vendita sono elementi naturali importanti che ci permettono di fare acquisire agli agrotecnici competenze di settore un settore multifunzionale un settore di grande specificità andiamo adesso in chiusura a parlare del fatto che nel vostro istituto c'è un convitto sì il nostro istituto è una delle scuole più particolari della provincia abbiamo un convitto e abbiamo un'azienda agraria ovviamente il convitto permette di accogliere studenti che vengono da zone alquanto lontane che per problemi logistici non possono spostarsi abbiamo un servizio di semiconvitto quindi una continuità dell'offerta formativa della mattina con il lavoro domestico da parte degli studenti ovviamente con il servizio di vigilanza educativa da parte di tecnici del servizio ragazzi professori tecnici operatori che fanno parte dell'assistenza educativa oltre a questo il laboratorio più significativo è il laboratorio dell'azienda agraria un'azienda agraria che si estende per circa 25 ettari di terreno dove possiamo produrre il cerealicolo abbiamo l'ortofrutticolo abbiamo appezzamenti di vigneto abbiamo oliveti senza dimenticare quelle che sono le risorse boschive di questa azienda un laboratorio che permette ai nostri studenti il fare acquisire competenze teoriche e immediatamente spenderle in seduta stante perché le attività pratiche le attività teoriche vanno di pari passo con e quindi un servizio di ricerca un servizio di approfondimento i nostri studenti in queste attività pratiche tecniche operative sono seguiti dal personale specialistico che sono i docenti tecnico pratici oltre a questi laboratori ovviamente abbiamo i laboratori di chimica i laboratori di agronomia e il laboratorio di meccanica agraria questo laboratorio oggi più che mai si parla di automazione nel mondo della meccanica agraria e questo fa parte proprio per dare senso a un servizio di agricoltura sempre più specialistica e sempre più tecnologica bene allora ringraziamo la dirigente scolastica Donatella Giuliani grazie a tutti i telespettatori di questa opportunità e buone feste e adesso è il momento di conoscere un altro istituto scolastico pesarese stiamo parlando del liceo classico e linguistico economico sociale e scienze umane mamiani allora abbiamo con noi il dirigente scolastico Roberto Risotti benvenuto grazie buonasera a tutti buonasera e allora andiamo a raccontare questo istituto e quali sono le eccellenze i rami sì il liceo mamiani è una scuola che come diceva lei ha quattro quattro indirizzi e attualmente su tre sedi abbiamo una sede al campus la sede del liceo linguistico e del diritto socio economico di cui poi vi parlerò una sede è la sede centrale la sede di via di via Gramsci la vecchia sede del liceo classico e quest'anno causa covid abbiamo una sede in via di trieste nella sede centrale attualmente ci sono le classi di scienze umane mentre nella sede di via di trieste le 15 classi del liceo del liceo classico intanto la nostra scuola è un liceo come tutti i licei ha la funzione di preparare i ragazzi fondamentalmente per il percorso universitario anche se nulla proibisce ai nostri ragazzi di approcciarsi al mondo del lavoro quando hanno concluso il loro percorso ma come diciamo i nuclei fondanti sono di preparazione verso il mondo universitario fra l'altro devo dire con anche discritti successi quest'anno nell'edoscopio che diciamo monitoraggio della fondazione Agnelli rispetto al successo dei studenti nel percorso universitario ci mette in buone posizioni anzi la prima posizione in tutti gli indirizzi nell'ambito della provincia delle zone di Mitrofe quindi questo ci rende particolarmente orgogliosi ovviamente i quattro indirizzi hanno caratteristiche diverse storie diverse pur continuando diciamo una pur continuando di una tradizione che loro hanno abbiamo cercato in questi anni di fare in modo che ci sia un'omogeneità nell'azione educativa questa è la cosa più importante se vogliamo parlare degli indirizzi possiamo cominciare con l'indirizzo del liceo classico il liceo classico forse non ha bisogno di essere presentato particolarmente è il primo liceo del regno d'Italia le scuole quindi è quello da una parte tradizionale però si è modificato nel corso degli anni attualmente non è più il liceo classico dove l'aspetto scientifico era molto ridotto ma continua ad avere un potenziamento maggiore rispetto al liceo classico di quando facevo lo studente io insomma anche se non ho fatto il classico fra l'altro noi abbiamo dallo scorso anno introdotto anche un percorso di potenziamento rispetto agli aspetti scientifici perché ma io ti siamo accorti che molti dei nostri ragazzi hanno degli approcci e poi test universitari in facoltà scientifiche dal primo anno abbiamo una classe da prima B quest'anno che seguirà un percorso di potenziamento scientifico che non vuole però snaturare la natura del liceo classico semplicemente aggiungere qualcosa in più da quest'anno la sede dicevo è in via Trieste non sappiamo ancora se sarà una cosa momentanea o meno dipende purtroppo dall'evoluzione covid vedremo un po' e come andranno anche i lavori si stanno facendo i lavori al Morselli che è la vecchia sede del glorioso delle gloriosi magistrali l'ex magistrale poi diventato liceo psicopedagogico e attualmente scienze umane il liceo delle scienze umane raccoglie l'eredità dell'istituto magistrale l'istituto magistrale che ha fatto la storia d'Italia perché le maestre dell'istituto magistrale hanno alfabetizzato l'Italia dal regno d'Italia fino a non tanti anni fa nel dopoguerra quindi pur raccogliendo questa realità importante mentre prima l'istituto magistrale preparava subito formava subito una maestra lo stato attuale non è questo lo scopo delle scienze umane ma appunto preparare verso l'università con un'attenzione particolare della pedagogia e della psicologia è un percorso di studio sicuramente interessante con una storia importante da qualche anno rispetto alle scienze umane è stata sperimentata ma ormai consolidata una opzione particolare che è il liceo economico sociale abbreviato il LES che è un po' la nuova è la nostra nuova creatura la nostra nuova creatura che si è però rafforzata molto in questi anni è stata fatta un'operazione rispetto all'utenza agli studenti di conoscenza di questo percorso che era sconosciuto e siamo passati in qualche anno da avere un'unica sezione con numeri ridotti quest'anno siamo riusciti a fare quattro prime addirittura perché sta avendo successo l'idea che c'è dietro l'economico sociale cioè una declinazione di alcuni aspetti della psicologia ma anche soprattutto della sociologia dell'antropologia e dell'economia i nostri ragazzi che fanno l'economico sociale fanno un esame conclusivo con diritto economia unica materia e scienze umane con un approccio all'economia che non è un approccio tecnico non è un approccio senza nulla togliere da ragionire ma un approccio culturale un approccio culturale molto importante per capire le coordinate attuali dare le coordinate ai ragazzi per affrontare il mondo in cui l'economia l'antropologia la sociologia sono molto molto importanti e questo 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 percorso è aumentato di molto tanto è vero che abbiamo dovuto spostarlo dalla sede di via Grams sia la sede del campo con qualche difficoltà iniziale ma adesso i ragazzi sono molto contenti i ragazzi e le famiglie sono molto contenti di questo spostamento poi c'è il liceo linguistico il liceo linguistico ha una sua struttura molto ben definita negli anni nasceva generalmente come una costola del liceo classico adesso ha una sua completa autonomia i ragazzi affrontano tre lingue l'inglese per tutti come materie di indirizzo fondamentali poi rimangono tutte le discipline del percorso liceale affronto dicevo tre lingue l'inglese tutti e poi possono scegliere altre due lingue fra spagnolo tedesco francese e dallo scorso anno anche il cinese abbiamo una classe di cinese come terza lingua la seconda lingua è stato attuale spagnolo quindi i ragazzi che fanno questo percorso fanno inglese spagnolo e cinese appunto è un percorso nuovo che sta avendo un certo successo abbiamo un accordo con l'aulo confucio di urbino di collaborazione quindi abbiamo la madre linguista cinese è un percorso che ci ci fa molto piacere avere iniziato perché nella provincia di Pesaro ancora non esisteva un corso di cinese è un'operazione molto interessante poi come tutte le scuole al di là degli aspetti diciamo più specifici degli indirizzi che vi ho descritto abbiamo tutta una serie di attività quella che viene chiamata l'ampliamento dell'offerta formativa che è un termine complicato per dire che cerchiamo di fare altro di fare altro di fare le cose in più che alcune strettamente collegate agli aspetti disciplinari penso alle certificazioni linguistiche i nostri ragazzi fanno tutti le certificazioni ovviamente in orario in orario extracurricolare quindi nel pomeriggio un'altra attività possono tutti affrontare i percorsi di certificazione linguistica molto utili per l'università in tutte le lingue che abbiamo questo non vale solo per il linguistico vale anche per i ragazzi del classico del scienzo umano del socio economico tutta una serie di attività che purtroppo quest'anno hanno avuto un po' una riduzione cerchiamo di farle sfruttandole online però cerchiamo di farle il più possibile che vanno dal teatro da percorsi di approfondimenti linguistici percorsi di approfondimenti scientifici di ogni tipo sono tanti non voglio fare l'elenco ovviamente a questo si associano i percorsi per l'orientamento l'ex alternanza scuola lavoro anche qui quest'anno siamo un po' in difficoltà però voglio sottolineare per esempio che tutti i nostri ragazzi di scienze umane hanno fatto e continueranno a fare con qualche difficoltà come dicevo dei percorsi di alternanza scuola lavoro quindi fra virgolette di tirocinio nelle scuole primarie e nelle scuole di infanzia gli asili sia quelli comunali che quelli statali è un'esperienza molto importante per i ragazzi per cominciare a capire no anche quali sono le loro prospettive si iscrive ad un corso a 14 anni e non si hanno sempre le idee chiare e quindi in qualche maniera avere la possibilità di approcciare futuri possibili lavori nell'ambito del proprio percorso è importante per poi anche decidere cosa fare insomma cosa fare fondamentalmente nella maggior parte dei casi come dicevo il percorso universitario quindi facciamo dell'orientamento anche con le facoltà universitarie sia le mitrofe che più distanti per cercare di far capire ai ragazzi quali sono quali possono essere i loro percorsi futuri questa è più o meno l'illustrazione forse sintetica non lo so della nostra scuola grazie mille e allora il dirigente scolastico Roberto Lisotti grazie grazie a lei buonasera a tutti e adesso è il momento di conoscere il liceo artistico Mengaroni di Pesaro e lo facciamo con la sua dirigente scolastica Serena Perugini benvenuta grazie grazie è un onore per me invio veramente un caloroso saluto un abbraccio a nome della dirigenza e dello staff del liceo artistico Mengaroni di Pesaro rivolgo veramente con cuore aperto e con gioia un saluto alle ragazze e ai ragazzi che si accingono a fare la scelta della scuola secondaria di secondo grado perché penso che questo rappresenti un po' il trampolino di lancio del futuro progetto di vita per loro se mi chiedessero con quali aggettivi definiresti ecco questo liceo ecco io direi questo è un liceo attivo vivo dinamico inclusivo che pone un'attenzione particolare alla personalizzazione dei percorsi che apre piste di lavoro e formative bellissime creative aperte che consente ai ragazzi di vivere esperienze formative duplici da un lato una conoscenza teorica attraverso la molteplicità delle discipline che quindi approfondiscono saperi e dall'altro tutta la rosa delle discipline di carattere artistico che danno spazio alla creatività all'innovazione alla sperimentazione e che consente veramente ai ragazzi di esprimere appieno i loro talenti questo attraverso la molteplicità degli indirizzi che il nostro liceo ospita addirittura sei il primo architettura e ambiente consentirà a voi ragazzi perché ecco a voi che mi rivolgo con tanto diciamo cuore accorato veramente con mente aperta per dirvi che qui veramente allenerete le vostre menti nel progettare ideare creare edifici di tante dimensioni piccole medie grandi tipologie diversi ed edifici in contesti diversi li collocherete li progetterete collocandoli ecco in ambienti naturali in ambienti urbanistici anche in ambienti futuristici perché poi dovrete esprimere la vostra fantasia e creatività lavorerete anche con software specifici in questo indirizzo AutoCAD Archicad Rino che vi consentiranno poi di realizzare il vostro progetto e vederlo proprio trasformato in un modello in tridimensione con la nostra stampante in 3D con la macchina laser ad alta definizione in un laboratorio Fab Lab che è veramente meraviglioso quale altro indirizzo arti figurative e qui veramente vi confronterete con il disegno con l'illustrazione grafica con il fumetto che a voi ragazzi piace tanto e poi ecco potrete acquisire conoscenze di tante tecniche pittoriche grafiche non solo ma è un indirizzo che vi consentirà di aprirvi al territorio perché sarete chiamati da enti associazioni ad abbellire gli spazi ecco io invito veramente voi e le vostre famiglie a fare una passeggiata lungo il molo del porto di Pesaro dove potrete vedere il mural si è realizzato dai nostri studenti a visitare la capitaneria di porto dove c'è un bellissimo affresco realizzato dai nostri ragazzi e tanti altri spazi della città l'altro indirizzo molto bello inclusivo che vi consente di stabilire tante relazioni con il territorio è l'indirizzo di grafica lavorerete con le aziende le aziende si rivolgeranno a voi anche per rinnovare la loro veste grafica comunicativa per cui attraverso l'utilizzo di Adobe Illustrator InDesign Photoshop sarete chiamati a creare il logo la locandina l'immagine comunicativa e pubblicitaria quindi di enti e parteciperete anche a tantissimi eventi utilizzerete tanti strumenti informatici ma è dalla vostra mente dalla vostra capacità creativa che usciranno i prodotti più belli cosa puoi non dire di Fashion Design un altro indirizzo molto bello che vi consentirà di ideare progettare realizzare abiti e accessori di abbigliamento vi confronterete poi tra l'altro con tanti allievi i nostri ex allievi che hanno avuto successo nel campo della moda e che vi guideranno in quelli che sono i percorsi di ideazione progettazione realizzazione di un modello che sarà frutto del vostro talento e delle vostre potenzialità e lo vedrete realizzato nel manichino in piccole poupette lo realizzerete con carta modelli e anche in stoffa e attraverso il dialogo con questi ex allievi conoscerete anche che cosa significa fare ricerca nella moda fare imprenditorialità nella moda e sarà diciamo un'esperienza sicuramente bella perché entrerete in contatto con tante anche firme note in questo settore l'altro indirizzo Interior Design e qui veramente la vostra capacità creativa innovativa di sperimentazione di ricerca nel rinnovare gli ambienti interni diventerà straordinaria lavorerete sull'oggettistica sul particolare dell'oggetto che vedrete poi realizzato nel nostro Fab Lab con la stampante in 3D coniugherete in questa occasione anche quella che è l'innovazione e la ricerca nell' Interior Design con quella che è la cultura della tradizione perché l'oggetto verrà reso particolare anche con un particolare in ceramica che quindi coniugherà cultura tradizione e innovazione cosa poi non dire dell'indirizzo di audiovisivi e multimedia qui veramente diventerete autori del prodotto digitale che sarete invitati e guidati a realizzare video cortometraggi illustrazioni digitali cinema dal vero realizzerete cortometraggi imparerete ad acquisire l'occhio di colui che osserva e documenta e sarà per voi un'esperienza molto bella come si articola questo liceo è un percorso quinquennale un biegno comune in cui affronterete tante discipline di carattere teorico a cui si affiancano discipline propedeutiche alla scelta dell'indirizzo futuro quindi disegno geometrico discipline plastiche discipline pittoriche e poi i laboratori orientativi che ho già spiegato con gli indirizzi illustrati la nostra scuola è una scuola posizionata nel centro della città un po' il cuore pulsante della cultura e dell'arte facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo anche dalla stazione del treno ha un fiore all'occhiello il liceo artistico che è oltre ai suoi sei indirizzi rappresentato dall'opzione liceo artistico internazionale coloro che si iscriveranno al nostro istituto potranno scegliere questa opzione e percorreranno attraverso alcune discipline quindi in particolare storia dell'arte del biegno e l'attività laboratoriale nel triennio un approfondimento e un potenziamento della lingua inglese attraverso questi contenuti disciplinari utilizzando quella che è la strategia la metodologia utilizzata in Regno Unito quindi raggiungendo dei livelli di certificazione linguistica elevatissimi utilissimi quindi per il futuro percorso lavorativo e per il futuro percorso di inserimento nelle università altre certificazioni linguistiche potranno essere raggiunte coniugando il potenziamento nella lingua e il percorso artistico anche in tedesco spagnolo e su richieste in lingua francese ma cosa non dire della relazione che questo liceo è in grado di creare con il territorio attraverso che cosa i nostri percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento la scuola dialoga con 150 circa aziende del territorio ma anche oltre il territorio e lo fa attraverso i percorsi che sono percorsi che consentono in contesto aziendale dialogando con imprenditori in vari settori attinenti ai nostri indirizzi per creare diciamo menti aperte capacità progettuale creativa innovativa spendibile per il futuro percorso e progetto di vita nel terzo anno i ragazzi che cosa fanno imparano quelle che sono le norme fondamentali e la sicurezza poi approfondiscono come si crea un curriculum vite anche in lingua straniera quindi si preparano proprio al futuro anche per l'inserimento lavorativo come presentarsi realmente e seriamente in contesto aziendale e creano il loro portfoglio sia cartaceo che digitale che è un po' un documento che cresce insieme a loro in cui loro raccontano raccolgono loro stessi i loro talenti i loro prodotti sarà utile per l'esame di stato ma sarà utile anche per presentarsi in maniera costruttiva e propositiva nel lavoro e nel futuro percorso universitario ma vi domanderete in quale università posso raggiungere dove posso arrivare dopo il liceo artistico Mengaroni ecco la risposta che mi viene di cuore è questa potrete arrivare in qualsiasi facoltà universitaria facoltà giurisprudenziale umanistiche scientifiche di qualsiasi tipologia esse siano e chiaramente quelle che sono anche le facoltà che sono attinenti al nostro indirizzo di studi e in particolare molti dei nostri allievi tenendo ecco in considerazione la prosecuzione di un percorso di studi attinente al nostro liceo si iscrivono alla facoltà di architettura di Cesena Venezia molti proseguono per esempio con il corso di specializzazione di design a San Marino altri che seguono il percorso di moda vanno alla Marangoni di Milano di Firenze o l'Isia il Dams la scuola di cinematografia per chi ha seguito multimedio audiovisivi e tante facoltà universitarie e corsi di specializzazione e perfezionamento tante sono le opportunità offerte non solo è una scuola che chiaramente orienta in entrata riorienta nel passaggio dal biegno al triennio e orienta in uscita in uscita infatti è tanto diciamo l'investimento utilizzato e speso nello sportello di aiuto per guidare i ragazzi perché la scelta della scuola secondaria di secondo grado è una scelta che prepara poi al futuro progetto benissimo allora veramente grazie ringraziamo la dirigente scolastica Serena Perugini grazie a voi ora conosciamo l'istituto alberghiero Santa Marta e lo facciamo con il dirigente scolastico Roberto Franca benvenuto grazie buonasera a tutti sì sono Roberto Franca il dirigente dell'istituto alberghiero Santa Marta di Pesaro l'istituto alberghiero già io dico va un po' stretta di citura alberghiero perché magari fa subito venire in mente all'albergo e quindi alla cucina cameriere e reception no è molto di più molto di più perché io lo chiamerei del turismo quindi del turismo dell'enogastronomia ecco di tutto di tutto questo è una bellissima scuola devo dire sono veramente orgoglioso di dirigerla come strutturata appunto abbiamo una scuola che ha quattro indirizzi praticamente che sono uno di cucina appunto uno di pasticceria uno di sala sale vendita e uno di accoglienza turistica allora volevo spiegare un attimino appunto questo discorso della cucina come dicevamo prima diventate cuochi e basta no perché si può diventare veramente anche imprenditori pensiamo a un ristoratore a uno che vuole aprire un'attività in proprio ma anche a livelli elevati di chef non è che c'è solo il cuoco quindi possiamo accedere benissimo anche ad attività molto ben remunerate adesso che tra l'altro vanno anche molto di moda in tv con le varie master ma la stessa cosa vale anche per la sala sala bar perché appunto il bar è un'altra possibilità che uno ha di aprire una professione quindi anche in proprio quindi curiamo molto anche questo aspetto dell'imprenditoria ma anche l'evoluzione che c'è stata nel campo diciamo così della sala adesso un bravo cameriere non è solo uno che porta il vassoio in un certo modo prepara la tavola in un certo modo certo ma soprattutto sa raccontare il piatto quindi conosce la tradizione sa abbinarlo a un vino quindi conosce anche il vino quindi io dico anche che ecco questa scuola è proprio una scuola del territorio però finisco di dire anche con la nostra accoglienza turistica perché qualcuno la considera dice la Cenerentola invece no per me è uno dei punti forti di quella scuola proprio perché non è esclusivamente una una professione che uno immagina ah sì nella receptionist di un albergo alle prenotazioni no può fare anche quello ma per esempio l'altro giorno abbiamo avuto come ospite a spiegarci il lavoro una hostess quindi ci sono gli assistenti di volo uno può fare quello come lavoro può fare l'assistente anche di crociera può lavorare e anche avere attività in proprio nell'ambito del turismo tour operator abbiamo tante studentesse che si sono diplomate da noi adesso hanno delle agenzie di viaggio curano tanto aspetti del turismo tutto tondo quindi e abbiamo anche chi fa ovviamente receptionist quindi hotelleria come si dice però ecco è vastissimo il campo poi il turismo diciamo è uno dei settori importanti ce ne stiamo accorgendo adesso in epoca di covid che è quello che soffre tantissimo perché sono tantissime attività che ruotano attorno a questo settore dei viaggi non solo ma ristorazione e tutto quanto dicevo è una scuola del territorio con il territorio e per il territorio perché appunto valorizza tutto quello che c'è nel territorio può valorizzare dai prodotti anche alimentari ma parliamo anche dell'agricoltura infatti noi siamo quasi nello stesso filone dell'agrario ma anche nel settore ittico per esempio oggi 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 chi veniva all'alberghiero se ne innamorava dico la verità perché sembrava una fucina di cose insomma tra l'altro avevamo un evento questa è una cosa che facciamo spesso adesso un po' meno per il covid però diciamo nel DNA della scuola un evento con i pescatori di Fano che proponevano dei piatti tradizionali a base di seppie e canocchie perché ogni anno ne propongono uno diverso un pesce diverso diciamo così un prodotto diverso e affiancati o in antagonismo come si vuol dire con i nostri studenti che invece preparavano con gli stessi ingredienti piatti moderni quindi c'era questa tradizione modernità insieme e quindi anche qui era una valorizzazione del prodotto ed è una cosa che ci piace tantissimo tra l'altro siamo una delle scuole fondatrici della rete alberghierittici italiani quindi lavoriamo ok questo era per dire come siamo inseriti nel territorio ma è importante definirlo perché poi a questo è legato ovviamente anche l'occupabilità i nostri studenti trovano lavoro abbastanza facilmente diciamo che da un'indagine eduscopio proprio di questi qualche settimana fa un'indagine sulle scuole la qualità delle scuole italiane per quanto riguarda i professionali c'è il discorso un indice era riguardava l'indice di occupabilità e la scuola alberghiera di Pesaro in particolare aveva un indice di occupabilità di oltre 72% quindi abbastanza elevato questo dobbiamo dirlo anche grazie alle esperienze che si fanno molto interessanti di alternanza scuola lavoro io la richiamo ancora così anche se adesso si chiama PCTO eccetera eccetera però alternanza scuola lavoro praticamente i nostri ragazzi che vanno a lavorare nelle aziende ma in questo caso le aziende sono ristoranti agenzie turistiche di tutto e di più quando vedono che i ragazzi sono particolarmente bravi e insomma ci sanno fare un attimo una volta diplomati entrano direttamente nel mondo del lavoro quindi c'è questa versatilità ok sto parlando della bellezza della scuola magari invece interessano anche gli aspetti più tecnici non lo so e quindi come scuola no in genere magari penso a questo agli aspetti più pratici però ecco venire in questa scuola mi viene da dire molti devo un luogo comune che c'è sulle scuole professionali in genere poi dopo non so cosa diranno anche gli altri colleghi di scuole professionali o altro però non dico che vengono considerate scuole di serie B ma sembrano quasi come tali tant'è che già anche quando uno fa le scuole medie dicono ma te non hai tanta voglia di studiare no va al professionale che meglio no lì non devi studiare e no ho detto allora non è vero smentiamo questa cosa diciamo che uno non ama studiare nel metodo scolastico diciamo così tradizionale di mettersi seduti su un libro leggere ripetere eccetera eccetera ma imparare facendo questa è una caratteristica dei professionali una scuola del fare ma non del fare così meccanicamente cioè di usare la testa ma usare anche le mani no contemporaneamente diciamo così e questo sviluppa però le proprie competenze che non sono sicuramente di serie B no anzi può essere che qualcuno può dare il meglio di sé proprio in questo campo quindi nella scelta dovreste essere cioè vedere un po' qual è più la vostra indole no direi questo e poi ciò non toglie che uno se invece piace anche studiare faccio un esempio le lingue ecco accoglienza turistica ha una possibilità in più perché appunto avendo a che fare con agenzie turistiche ma tutti tant'è vero che sia in sala che anche in cucina e tutti nel piano di studi ci sono due lingue da studiare l'inglese per tutti poi a scelta o francese o spagnolo quindi a livello universitario cosa si può fare dopo anche ci abbiamo molte studentesse o studenti parlo più studentesse ma anche studenti che vanno a si iscrivono all'università a lingue quindi tutto quello che si può fare anche nel campo universitario ma anche anche dei corsi post diploma come gli ITS appunto ce n'è proprio uno sul turismo che ha la sede proprio vicino all'alberghiero dove ci sono figure intermedie ma di livello di livello superiore sul turismo e poi abbiamo detto questo con gli studi sicuramente si può possono continuare così anche come anche per cucina c'è chi va a fare scienze dell'alimentazione che è una delle specializzazioni una materia importante per noi quindi diventano anche dei nutrizionisti per cui veramente c'è un ampio ventaglio di possibilità tant'è vero che noi anche per questo abbiamo una scuola serale per dare un'ulteriore opportunità a chi magari nel frattempo ha avuto delle difficoltà e si vuole un attimo rimpiegare quindi anche questo è importante ok l'ultima battuta in chiusura l'ultima battuta oddio delle attività insomma fate tante attività e anche la scuola è predisposta perché ha degli ambienti predisposti con tutte le tecnologie che servono appunto per la manualità sì sì certamente siamo una scuola che si sta attrezzando tantissimo tra l'altro anche qui dicevo del territorio spesso abbiamo sponsor del territorio per esempio l'ultimo è stato Italforni che ci ha fornito appunto di un forno all'avanguardia poi adesso stiamo lavorando per il bar quindi abbiamo in qualche modo anche poi tutte le attrezzature al meglio stiamo ampliando anche i laboratori quindi abbiamo fatto già un'opera anche di restauro interno non da poco e quindi ecco è una scuola all'avanguardia stiamo investendo molto anche sulle nuove tecnologie quindi adesso un po' il covid è già quasi obbligato però era già nel nostro DNA insomma cercare di sviluppare anche l'aspetto informatico che è molto importante allora grazie davvero tanto al dirigente scolastico Roberto Franca grazie grazie a voi buonasera a tutti adesso cari ragazzi e cari genitori vi andiamo a presentare il liceo scientifico Marconi di Pesaro in questo caso non c'è il preside Riccardo Rossini ma abbiamo il vicepreside Mauro Baiamonte benvenuto grazie grazie buonasera a tutti allora raccontiamo il liceo scientifico di Pesaro sì inizio intanto dal nome che in realtà il nome completo è il liceo scientifico musicale ecoreutico Marconi quindi diciamo che chi si iscrive alla nostra scuola potrà scegliere tra il liceo scientifico nelle varie opzioni perché può essere scelto il liceo scientifico diciamo quello tradizionale il liceo scientifico delle scienze applicate e il liceo scientifico sezione sportiva poi c'è appunto il liceo musicale coreutico nelle due sezioni la sezione musicale e la sezione coreutica cioè il liceo della danza in realtà siamo poi anche un po' più complicati di così perché abbiamo una struttura che si basa su unità lezione di 50 minuti anziché 60 questo ci permette come dire di raccogliere tutti i 10 minuti mancanti da ogni ora e alla fine riuscire ad offrire alla fine della settimana quattro unità lezioni aggiuntive e questo ci permette di differenziare un pochino i vari indirizzi queste quattro ore aggiuntive vengono distribuite in due ore di potenziamento che sono quelle come dire che definiscono l'indirizzo di studio e che lo studente sceglie all'inizio dei cinque anni poi ci sono due ore ancora aggiuntive che sono sulle discipline complementari discipline complementari che forse sono la caratteristica principale insomma più comunque la novità della nostra scuola sono materie che vengono scelte dallo studente ogni anno o meglio per essere più precisi in seconda in terza in quarta e che permettono uno studente di come dire assecondare le proprie passioni muoversi tra le varie discipline quindi uno può decidere in quelle due ore alla settimana di frequentare il corso di astronomia o di lingua cinese di lingua tedesca di informatica programmazione sviluppo app insomma di assecondare le proprie passioni le due ore di potenziamento invece dicevo prima definiscono i vari indirizzi dei corsi di studio ad esempio chi si iscrive al liceo scientifico può scegliere un potenziamento scientifico o un potenziamento linguistico il potenziamento scientifico ovviamente è dedicato all'approfondimento delle materie scientifiche quindi ci sono ore aggiuntive di scienze e matematica nel triennio e di scienze e fisica nel biegno ovviamente soprattutto effettuate in laboratorio quindi dal punto di vista più applicativo poi c'è il potenziamento linguistico dicevo in cui le ore aggiuntive di potenziamento sono dedicate allo studio di una seconda lingua a scelta tra francese e spagnolo e al potenziamento ovviamente della lingua inglese e queste sono le possibilità per il liceo scientifico diciamo quello tradizionale in aggiunta per il liceo scientifico con potenziamento scientifico si può anche scegliere la sezione internazionale che ha lo stesso identico programma del liceo scientifico ma questo programma viene svolto in tutte le materie tranne italiano e latino gradualmente in lingua inglese quindi il primo anno una certa percentuale delle lezioni viene fatta in lingua inglese per poi arrivare in quinta in cui la quasi totalità degli argomenti vengono svolti in lingua inglese ovviamente non sto a sottolineare l'importanza della lingua inglese per il proseguo degli studi sia all'università che nel mondo del lavoro passiamo agli altri gli altri indirizzi per le scienze applicate c'è un unico potenziamento che è quello tecnologico in cui si studiano materie aggiuntive di tecnologie di disegno e di sistemi antriegno e anche qui ci sono poi le due raggiuntive di discipline complementari qual è la differenza grande tra le scienze applicate e il liceo scientifico è l'assenza nelle scienze applicate del latino e invece la presenza di informatica come materia a sé stante quindi è fondamentalmente un indirizzo di studi che in realtà permette gli stessi sbocchi che permette il liceo scientifico normale quindi tradizionalmente le facoltà universitarie scientifiche ma non solo perché potrei dire che insomma il liceo scientifico forse è tra i vari licei introdotti anni fa dalle varie riforme quello con un piano di studi più equilibrato probabilmente quindi un buon equilibrio tra le materie scientifiche e quelle umanistiche però il liceo delle scienze applicate ha un approccio un pochino più tecnico più applicativo e quindi forse per chi non so ha idea di fare nel futuro l'ingegnere o il tecnico è una buona scelta e poi c'è l'opzione sportiva la sezione sportiva liceo scientifico sezione sportiva sottolineo liceo scientifico perché in effetti quello che è comunemente noto nella nostra città come liceo sportivo è in realtà un liceo scientifico a tutti gli effetti il programma di matematica è identico a quello dello scientifico quindi lo dico per evitare non si fa solo sport non si fa solo sport si fa tanto sport ma non si fa solo sport diciamo che viene usato lo sport come volano per studiare per appassionarsi anche alle altre materie e ha una caratteristica organizzativa che è quella della settimana corta quindi il sabato i ragazzi che spesso sono atleti anche di buon livello non vanno a scuola perché spesso hanno giornata di gara o di pre-gara ovviamente questo induce a dover introdurre un piccolo rientro pomeridiano fino in realtà alle due e mezza quindi poco più della mattina nel biegno e due rientri pomeridiano fino alle 15 e 30 nel triennio questa è un po' la panoramica del liceo scientifico per quanto riguarda invece il liceo musicale e coreutico sono corsi di studi diversi le diciamo le materie culturali propriamente dette sono un po' alleggerite rispetto al corso di liceo scientifico per dare spazio a numerosissime ore di materie specifiche di indirizzo quindi per quanto riguarda il liceo musicale ovviamente lo studio di due strumenti con un insegnante in rapporto uno a uno che è il motivo per cui il liceo musicale è una scuola molto costosa per lo stato e quindi abbiamo un'unica sezione in tutta la provincia di liceo musicale quindi due strumenti tecnologie musicali teorie analisi composizione laboratorio di musica d'insieme quindi un gran numero di ore di indirizzo e per il liceo coreutico che è stato introdotto due anni fa anche qua il piano di studio delle materie culturali è identico a quello del liceo musicale per anche qua dare spazio a numerose ore di tecniche della danza classica tecniche della danza contemporanea e laboratorio coreutico ecco gli sbocchi per il liceo musicale e il liceo coreutico sono tipicamente finito i cinque anni di scuola il conservatorio per il liceo musicale e l'accademia di danza per il liceo coreutico non obbligatoriamente ovviamente abbiamo avuto studenti del liceo musicale che insomma è già arrivato a parecchi anni di anzianità alcuni studenti del liceo musicale si sono laureati in ingegneria per dirne una insomma quindi non è preclusa nessuna strada l'attività del liceo musicale coreutico essendo molto intensa come materia di indirizzo non permette per il liceo musicale coreutico di avere dei percorsi di potenziamento come per il liceo scientifico perché l'impegno è già insomma è già cospicuo per le materie di indirizzo dunque ultima cosa forse che posso ricordare è su dicevo prima i corsi complementari che un po' caratterizzano la nostra scuola sono appunto sul modello anglosassone c'è lo studente che si individualizza il percorso di studi e questo permette uno sviluppo di tutta una serie di competenze che poi saranno utili nel futuro sia nel mondo delle università che nel mondo del lavoro in prima e in quinta non facciamo le discipline complementari bensì quello che chiamiamo il laboratorio studiare quindi due ore gestite dagli insegnanti del consiglio di classe per potenziare eventualmente per preparare all'esame di stato per quanto riguarda la quinta i vari studenti lo slogan della nostra scuola è una scuola con il futuro dentro una scuola con il futuro dentro è ovviamente solo uno slogan ma è quello che un po' ci contraddistingue è una ricerca dello sviluppo di quelle competenze trasversali di intelligenza sociale di capacità di relazione che poi sono effettivamente la chiave per il futuro allora ringraziamo davvero tanto il vicepreside Mauro Baiamonti grazie grazie a voi e siamo arrivati al momento di conoscere l'istituto professionale industria e artigianato Benelli chiaramente di Pesaro allora lo facciamo con la dirigente scolastica Anna Maria Marinai Benvenuta Buonasera a tutti sono il dirigente dell'istituto professionale per l'industria e artigianato di Pesaro dirigo con orgoglio questa scuola da sette anni e la considero la mia scuola poiché appunto ho insegnato nel mio passato da docente per 16 anni nel settore soprattutto chimico-biologico quindi ho un grande senso di appartenenza e so quanto vale questa scuola e lo so proprio in maniera approfondita per la lunga esperienza lo slogan progetta il tuo futuro perché proprio è una scuola che si parla del futuro chiaramente personale degli alunni e delle alunne che affidano a noi la loro formazione ma è una scuola che comunque ha sempre guardato al futuro all'innovazione tecnologica all'innovazione scientifica l'offerta formativa è plurima sia nel settore dell'industria e dell'artigianato e sia nel settore appunto delle produzioni sia nel settore dei servizi sociosanitari ci sono quattro indirizzi caratterizzanti la prima appunto ora si chiama manutenzione e assistenza tecnica ma all'interno comprende il settore l'indirizzo elettronico l'indirizzo meccanico diviso in riparatore veicoli cioè manutenzione mezzi di trasporto e manutenzione degli apparati impianti civili e industriali sì poi appunto abbiamo il settore l'indirizzo delle produzioni chimico-biologiche che appunto volto sia sia le produzioni cosmetiche che alle produzioni agroalimentari che chimiche in generale farmaceutiche ma anche nel controllo ambientale sia chimico che che biologico poi abbiamo nel settore appunto dei servizi sanitari abbiamo l'odonto tecnico che ovviamente è uno degli indirizzi più vecchi cioè già dagli anni settanta che appunto è nella nostra scuola e il neonato ma più che neonato insomma ormai sono cinque anni che che è presente nel nostro istituto che è l'indirizzo ottico ecco questo ho fatto un po' una panoramica per far capire la complessità e quanto sia ampia l'offerta formativa appunto per i nostri giovani appunto nel settore appunto tecnico e professionale è una scuola appunto del fare e del pensare nel senso che attraverso il fare e il riflettere su ciò che si fa normalmente appunto i ragazzi trovano la motivazione allo studio e quindi lo stimolo appunto per andare avanti come i laboratori sono infatti appunto la scuola del fare perché appunto sono numerosissimi i laboratori appunto nei vari settori da quello elettronico il nuovo nato da due tre anni il laboratorio di automazione appunto che abbiamo che con la tecnologia appunto all'avanguardia e appunto poi abbiamo i laboratori elettrici abbiamo di meccanica laboratori chimica microbiologia e poi siccome abbiamo anche le qualifiche e poi un attimo ne parlerò dopo però una qualifica diciamo che normalmente attiva molto appunto è quella dell'operatore del benessere divisa in estetica e acconciatura abbiamo quindi anche i laboratori relativi gli estetisti parrucchieri infatti adesso mi aggancio parlando praticamente anche delle qualifiche oltre agli indirizzi quinquennali cioè di cinque anni che portano poi al conseguimento del diploma di stato ci sono appunto le qualifiche triennali regionali naturalmente ognuna nei vari settori si ripetono quelli che ho elencato prima elettrico elettronico meccanico e l'unico che diciamo non ripete l'indirizzo in cui appunto è inserito è appunto l'operatore del benessere con l'estetica e l'acconciatura siamo nel territorio del 1963 e praticamente abbiamo diciamo abbiamo contribuito allo sviluppo economico del territorio con una stretta collaborazione con le aziende appunto dei vari settori meccanico elettronico eccetera e ancora oggi appunto la collaborazione con le aziende è stretta perché e con le associazioni di categoria proprio perché abbiamo tante convenzioni per permettere ai nostri studenti di fare gli stage i nostri studenti si fanno conoscere un po' in tutto il territorio quando vanno a fare stage e poi immediatamente vengono tra virgolette prenotati ancora prima di finire la scuola appunto il percorso di strudi evidentemente appunto vengono riconosciute le competenze che acquisiscono praticamente nei nostri percorsi naturalmente alla fine dei cinque anni escono delle figure professionali preparate quindi dei tecnici nei vari settori appunto che abbiamo elencato molti dei nostri alunni sono diventati imprenditori altri hanno continuato nella formazione tecnica superiore fino all'università quindi sono anche molti ingegneri odontoiatri farmacisti chimici biologi ma anche ragazzi che hanno interpreso delle lauree di formazione umanistica perché questo vuol dire che comunque la base culturale generale c'è ed è per loro poi utile per affrontare qualsiasi percorso di studio quindi competenze specifiche di indirizzo professionali e anche competenze generali culturali trasversali niente noi poi negli ultimi anni anzi sono già diversi anni che facciamo anche esperienze di stage all'estero attraverso gli Erasmus o comunque attraverso soggiorni studio all'estero che organizziamo praticamente tutti gli anni attraverso i quali oltre gli stagi i ragazzi possono quindi anche apprendere le lingue e quindi ottengono anche delle certificazioni linguistiche i progetti di ampliamento dell'offerta formativa che mettiamo in campo sono sempre tanti da quelli di settore a quelli generali i progetti legalità i progetti di scuola aperta ultimamente un progetto che ha avuto anche una connotazione sociale diciamo oltre che professionale molto importante è stato quello della protesi sociale che abbiamo appunto inaugurato l'anno scorso che quindi diciamo si apre alla solidarietà delle persone meno abbienti questo nel settore ovviamente odontotecnico quindi diciamo la nostra scuola è molto ricca abbiamo anche poi un corso serale in cui le richieste praticamente per fare questi percorsi sono sempre tantissime perché la formazione adulta oggi è un tema molto importante ovviamente c'è la riconversione professionale che è un'esigenza perché ormai il posto di lavoro sicuro è diventata una topia quindi la formazione permanente è un obiettivo europeo e arriva un momento nella vita che o chi non ha mai conseguito un diploma perché magari purtroppo si è disperso oppure chi ha già un diploma ma ha necessità o anche voglia di una sfida diversa di cambiare lavoro praticamente nel nostro istituto trova l'offerta formativa che può soddisfare le sue esigenze Allora siamo in chiusura Preside finisca pure il racconto Allora le opportunità lavorative quindi sono molte oltre ovviamente quelle date dalla possibilità di proseguire appunto gli studi in questo momento ci sono due indirizzi l'odonto tecnico e l'indirizzo ottico che offrono le più ampie possibilità proprio perché passiamo da un momento in cui gli iscritti all'indirizzo d'onto tecnico erano tantissimi e quindi con un vaccino di utenza grandissimo dalla Romagna alla provincia di Ancona avevamo addirittura nove sezioni in un tempo poi c'è stato un momento in cui il campo è stato inflazionato quindi non è stato più attraente dal punto di vista occupazionale oggi invece non c'è più ricambio generazionale quindi diciamo che da una tradizione da cui appunto viene questo indirizzo a oggi in cui praticamente gli alunni forse perché non conoscono bene il settore o forse perché pensano che poi non possono trovare occupazione è una falsa idea perché invece poi c'è l'ottico l'ottico è nato dicevamo da cinque anni nella regione Marche abbiamo tre scuole con l'indirizzo ottico è un campo totalmente vergine anche questo molto stimolante che può dare anche poi degli sbocchi futuri anche nel mondo accademico con tanti indirizzi riguardanti il settore quindi questi sono i settori che in questo momento per noi sono un pochino più in sofferenza niente invito quindi tutti a tutti o almeno gli interessati comunque a venire a vedere la nostra scuola perché è veramente molto difficile spiegare la complessità del nostro istituto i nostri laboratori sì possono essere raccontati ma se visti è sicuramente un'altra cosa quindi noi facciamo appunto ogni sabato per quattro sabati da abbiamo iniziato sabato scorso e poi sabato 19 poi abbiamo il sabato 19 dicembre poi sabato 9 gennaio e sabato 16 facciamo appunto gli open lab su prenotazione sul nostro sito www.istudobenelli.edu.it potete trovare appunto il form per prenotarvi per gli open lab sempre su prenotazione c'è anche studente per un giorno quindi all'uno per un giorno quindi anche lì sul sito trovate il form e vi potete prenotare e poi c'è anche il Benelli call center cioè praticamente se volete dei chiarimenti sempre sul sito c'è il calendario dei giorni in cui dei docenti saranno a disposizione per chiarire tutti i vostri dubbi quindi io vi invito solo a venirci a trovare a visitare per rendervi conto di cos'è di quanto sia bella la nostra scuola allora ringraziamo davvero tanto la dirigente scolastica Anna Maria Marinai grazie e allora grazie a tutti voi che ci avete seguito voglio ringraziare anche la regione Marche per questo importante progetto di orientamento e la scuola capofila l'istituto Bravante Genga di Pesaro e poi chiaramente tutti i dirigenti scolastici che questa sera sono stati qui con noi io vi ringrazio davvero tanto buona serata e buone feste